Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, meno burocrazia per gli interventi sull'edilizia. Un risultato epocale, atteso da tempo dalle comunità locali. Nel primo consiglio direttivo, nei consiglieri con il presidente Tommaso Pellegrino, hanno voluto dare un segnale forte di cambiamento dell'ente parco, recependo subito quella che era tra le richieste prioritarie dei cittadini, che quotidianamente vivono il territorio. Nella seduta di giovedì sono state approvate norme per la semplificazione nelle procedure di autorizzazioni edilizie, tradotto, meno vincolistica per realizzare piccoli interventi di costruzione o ristrutturazione. In alcuni casi sarà sufficiente l'autocertificazione. Fino ad oggi invece, anche per modificare un balcone in una zona non sottoposta a speciali vincoli, bisognava inviare tutta la documentazione al parco ed intraprendere l'iter burocratico per ottenere le autorizzazioni. Un sistema che ha rallentato e in molti casi bloccato anche piccoli interventi di edilizia, sollevandone un poche polemiche da parte delle comunità locali. Il parco fino ad oggi è stato vissuto dai suoi cittadini come un'imposizione soprattutto per le forti restrizioni in materia edilizia. L'intervento del Consiglio Direttivo è un segnale forte e i nuovi verte ci sono intenzionati a cambiare rotta. Certo, dice il Presidente Pellegrino, non possiamo modificare la legge o intervenire sul piano del parco, ma le norme che abbiamo approvato sono una prima significativa risposta alle stanze dei cittadini. Negli ultimi anni le restrizioni, tutte giustificate nell'ottica della salvaguardia ambientale, hanno frenato interventi di ristrutturazione edilizia che invece potrebbero contribuire alla conservazione e valorizzazione dello stupendo patrimonio immobiliare del parco. Nello stesso Consiglio si è discusso anche del futuro utilizzo del centro della biodiversità finalmente destinato a centro di formazione dopo il trasferimento degli uffici a Palazzo Mainente. Grazie Grazie Grazie